come installare così i driver per il cavo ethernet quindi se in questo caso tu hai smesso di usare la connessione rete wifi vuoi passare direttamente al cavo ethernet ma il cavo non funziona perché ha bisogno di driver disponibili quindi di driver installati sul tuo sistema operativo quindi in questo caso io vado direttamente sulla mia scheda madre quindi se non sai che scheda madre vai direttamente su system information e qui troverai prodotto scheda di base b450 gaming plus max questa è la mia scheda madre vai sulla tua scheda madre prodotto della scheda madre io vado a scrivere la mia b450 gaming plus vado direttamente su driver lan driver ed eccolo qua scarico e installo questo quindi io scarico così il pacchetto questo è il pacchetto estrai il pacchetto con winrad estrai i file in realtech entriamo nella cartella setup e faccio sì grazie a tutti manutenzione completata a me ha fatto uno di pristino perché tenevo già installato un driver faccio fine una volta finito così l'installazione del driver tu devi riavviare il sistema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao